Buonasera, siamo a Mahon, il mercato del pescador. Questo è il famoso mercato dove fanno queste tapas, c'è un po' di roba. C'è tanta roba ragazzi, sembra veramente tanto così bene, sono le pannotti, piccoli 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 piccoli, veramente buone, veramente buone, poi c'è questa fantastica, che sicuramente è buona di fritti, vediamo di tutto. Un'altra paella, questo è il dolce tipo che non ho mai dato il nome, un po' di bottiglie, questo è un ottimo posto per fare aperitivi, ma anche pranzare, e qui arriva ai grandi grandi. Questa è la classica bischietta col serrano, la pietuta col serrano, suppongo sia patanegra, sì, sì. Anvere. Pucco, sono tre d'arte, non è? Sì. Sono opere d'arte. Sì, sì. Ok, noi vediamo qualcosa. Ciao ragazzi, a tutto. Ciao. オıgo. No.